Profumo DMG sulla nuova Mercedes GLE 53. La versione coupé della grande GLE è più sportiva anche nella forma della sua carrozzeria. Il tetto spiovente e la coda sinuosa migliorano il coefficiente aerodinamico, senza però perdere in capacità di carico ed abitabilità. Sotto al cofano troviamo un propulsore in grado di offrire prestazioni sportive. La novità più importante però rispetto alle normali AMG è la tecnologia EQ Boost. Quest'ultimo non interviene quasi mai nell'erogazione della potenza motrice, ma svolge funzioni di alternatore elettrico ed aiuta il propulsore endotermico nelle funzioni accessorie, recuperando energia gestendo lo start and stop, attivando la modalità sailing. Le dimensioni maxi e il peso non giocano a favore della dinamica di guida, che però risulta agile e coinvolgente anche tra le curve, grazie alla trazione integrale 4MATIC e all'assetto AMG Active Ride Control. Il cambio consente inoltre di adattare la vettura alle proprie esigenze, modificando la sua logica di funzionamento a seconda della modalità di guida ed assicurando regimi di rotazione ridotti alle velocità autostradali, così da ridurre i consumi. La GLE 53MG risulta un'alternativa valida e intelligente alla più potente GLE 63. Le prestazioni sono oltre le aspettative per una vettura di questa stazza e il sound del sei cilindri è coinvolgente.